canale 5 vi invita in esclusiva a tre serate di grande spettacolo in diretta tutta l'emozione della musica rigorosamente dal big il big della canzone italiana in gara per eleggere il motivo più amato dal pubblico con la partecipazione di grandi ospiti stranieri tre serate per un unico evento presentato da Mike Buongiorno Festival Italiano 27, 28 e 29 ottobre canale 5 grazie a tutti